buon pomeriggio buon pomeriggio Roberto buon pomeriggio a tutti ciao Ilario oggi ci siamo rivisti per questa nuova stagione di Learning Talk e parleremo di ecosistemi digitali virtuosi in particolare di come ridurre i costi con l'open source ecco mi sembra che possa essere necessario per chi ci ascolta fare una premessa su cos'è l'open source una breve spiegazione un piccolo explaining di che cos'è l'open source in modo che possa essere poi chiaro per tutti il ragionamento successivo open source significa che un software che viene sviluppato viene rilasciato pubblicamente in che senso? nel senso che il codice con cui è scritto diventa accessibile a tutti gli utenti sul web in teoria open source significa questo questo poi ha delle ricadute nel senso che chiunque poi ha le capacità di sviluppare del codice può visualizzare quel codice studiarlo comprenderlo modificarlo e le licenze che poi regolano i software open source prevedono anche che le modifiche fatti e i miglioramenti fatti a questo software vengano rilasciati anche essi pubblicamente quindi creare in qualche modo dei software pubblici nel senso di utilizzabili da tutti modificabili da tutti anche i vantaggi di sicurezza perché chiaramente più persone possono citare il codice verificarlo utilizzarlo possono poi insomma sistemare eventualmente delle falle che possono essere essere trovate quindi ci sono più persone che ci lavorano sopra questo mi sembrava ecco un'introduzione dovuta per rendere più chiaro il tema a tutti quindi partiamo con qualche domanda e Roberto ti chiedo se ci vuoi introdurre anche lato tuo il tema di oggi e magari con un po' di storia se vuoi aggiungere anche tu qualcosa su un po' di storia antica quindi partiamo dall'impero romano no scherzo allora per motivi meramente anagrafici ho avuto a che fare con l'open source dall'inizio degli anni 90 perché in quei tempi lavoravo in una multinazionale che faceva sia hardware che software in Germania e ci fu ai tempi una grande discussione perché le amministrazioni pubbliche o almeno alcune amministrazioni pubbliche già iniziavano a decidere di utilizzare il software open source ricordo per esempio il comune di Monaco di Baviera che fece quasi scandalo perché smise di adottare Microsoft Office e a proposito di Microsoft chiaramente l'open source e più in particolare Linux venivano vissute ai tempi come un vero e proprio cancro da parte delle multinazionali Steve Ballmer che è stato uno dei CEO di Microsoft definì un cancro Linux appunto quindi si immagina proprio il terrore o la manipolazione a seconda dei punti di vista oggi è diverso per esempio si fa molto parlare di blockchain che in fondo non è che un database open source proprio per dare maggior sicurezza ai software lì si rende pubblici in modo da possederne tutti le chiavi diciamo così quindi assolutamente l'open source è più oggi un movimento accettato a livello internazionale rispetto all'inizio dove chiaro che non si parlava di web si prendevano i floppy disk con l'open source una volta oggi ci sono dei movimenti molto importanti basti pensare a quello che è diventato android per google pur con tutte le limitazioni perché è chiaro che poi plug-in o agganci al software principale anche di android non sono open source ma sono proprietari però sempre più spesso il nucleo il nucleo centrale degli applicativi è open source basti pensare anche a cosa è stato wordpress per lo sviluppo dei siti internet esatto oggi sono tanti software open source che vengono utilizzati anche da multinazionali e che servono per regolare tante applicazioni che noi utilizziamo anche quotidianamente si basti pensare anche che il 90% dei server nel mondo gira con Linux che è quindi un sistema operativo open source riguardo quindi Roberto agli ecosistemi digitali nel caso quindi della formazione un LMS e quanto è un fattore chiave in un'azienda beh qui non dobbiamo nasconderci dietro a un dito sicuramente l'LMS non è il software più importante all'interno di un'azienda però vogliamo sottolineare che sicuramente è uno degli ambiti dove l'open source ha dato i migliori risultati perché perché semplicemente l'LMS è stato sviluppato da gruppi di università quindi molti LMS sono nati nell'ambito della formazione accademica anche perché è stata la prima che ha fatto percepire la necessità appunto della formazione online ancora verso la fine degli anni 90 appunto per esempio il software che rappresentiamo in Italia Ilias è del 1998 e nacquero come open source proprio per sfruttare quello che veniva realizzato nelle altre università questo nel caso di Ilias ma anche di altri software come Moodle ha avuto chiaramente un grandissimo sviluppo con un livello quanti qualitativo ottimo direi tant'è che organizzazioni anche del settore della difesa fanno uso degli open source dicevamo prima che è comunque una garanzia di sicurezza il contrario di quello che si può pensare che sia più fragile dal punto di vista della sicurezza per esempio la Nato e diverse organizzazioni della difesa nei paesi europei negli Stati Uniti come la polizia le stesse Nazioni Unite per il settore del disarmo installazione di cui ci siamo occupati inizialmente cinque anni fa è stato un progetto molto interessante usano appunto l'open source quello che vorrei aggiungere perché c'è capitato purtroppo di vederlo in aziende manifatturiere anche di una certa importanza è che non vale la pena cambiare open source a meno che non si abbia un prodotto veramente obsoleto o realizzato localmente si vuol fare uno step verso quelli che sono gli LMS più conosciuti però ecco impiegare tanto tempo e risorse per passare da un LMS a un altro secondo me è sicuramente un errore perché non dà frutti e quindi è difficile seguire in maniera positiva questa tendenza tant'è che l'LMS non è poi più nemmeno il centro di un'architettura di formazione ne è sicuramente una parte importante della gestione ma non sicuramente il centro quando si parla di LMS open source o comunque di open source in genere una delle dei vantaggi ma chiaramente ne vedremo altri che vengono citati sono la flessibilità e l'agilità ecco ma in che senso beh la cosa più importante è che spesso un software proprietario non mi dà valore velocemente mentre l'open source è più facile che mi dia valore velocemente che sia più flessibile e più agile perché se ho un partner efficiente è facile e veloce ottenere una customizzazione un qualcosa di legato alle mie esigenze specifiche faccio un esempio io spesso oggi in azienda devo integrare un software con altri ambienti ed è chiaro che avendo una conoscenza abbastanza approfondita del codice di un open source questo è un compito più facile soprattutto perché gli open source stessi rispettano gli standard di comunicazione e integrazione fra software quindi è diciamo sicuramente più flessibile più agile perché io stesso o col partner che mi è vicino posso provvedere alla customizzazione cosa che spesso per il software proprietario non è possibile si va a risalire addirittura alla casa madre per avere una customizzazione e questo causa costi e ritardi giganteschi quindi sicuramente possiamo parlare anche di una maggiore velocità nella crescita di un progetto ah sì è un po' legato a quello che dicevo prima aggiungo anche un elemento che spesso nel settore dell'e-learning questo attualmente è certo sulla base proprio della nostra esperienza perché abbiamo avuto a che fare in progetti condivisi magari per aziende importanti e quindi dove eravamo in collaborazione con altri partner che questi altri partner non erano preparati e si trinceravano di fronte a delle scusanti ma questa parte è in beta oppure non è possibile quando in realtà noi sappiamo che tecnicamente era assolutamente possibile e che non avrebbe neanche avuto senso che certe cose erano in beta adesso non entro nello specifico per non offendere nessuno però è ovvio che lavorando sull'open source si rischia meno da questo punto di vista perché esistono delle comunità virtuose e solitamente sono anche fatte di persone che hanno una certa mentalità orientata al servizio e alla collaborazione ma nella scelta quindi di un software diciamo open source si rischia nel senso magari c'è della convenienza del risparmio iniziali proprio per magari il software appunto è gratuito open source ok però diciamo qual è il rischio vero ecco nello scegliere un LMS questa è una bella domanda allora innanzitutto è vero che non ha costi di licenza e quindi se ho soprattutto un certo numero di utenti è ovvio che il risparmio della licenza ha la sua importanza pensate che nella provincia autonoma di Bolzano di cui noi siamo orgogliosamente il partner tecnico per la loro piattaforma di e-learning hanno collegato più di 100.000 cittadini considerate che in Alto Adige abbiamo circa 200.000 cittadini quindi si parla del 50% della popolazione inizialmente questo progetto iniziato nel 2007 fu fatto soprattutto per collegare le valli perché avere un corso che è fruibile in località che sì sono magari i viari a vicine 30-40 km però è chiaro che le vallate dell'Alto Adige per scendere dalla Valle Eurina a Bolzano mi ci vogliono più di due ore quindi insomma diventa un impegno direi che quello che ci vuole un po' di più è coraggio da parte dei CTO dei responsabili tecnici perché perché chiaramente si mette in gioco la propria figura se io scelgo un software blasonato sono meno criticabile perché chiaramente posso sempre replicare ma io ho fatto la scelta dell'azienda importante e sono diciamo più tutelato nel caso dell'open source ci sono tanti open source poco conosciuti sono pochi gli open source veramente conosciuti direi che sicuramente Elias e Moodle nel settore dell'LMS e Linux come sistema operativo ormai non è che vengo criticato se scelgo Linux però ecco se scelgo per esempio un CRM open source come va a finire diventano software che hanno un'importanza dal punto di vista commerciale ed eventuali malfunzionamenti possono ricadere in una critica verso i responsabili tecnici quindi è vero che secondo me in Italia se non vogliamo andare a pensare male quindi a una malafede per esempio nella pubblica amministrazione l'open source è stato poco diffuso anche per una mancanza di volontà di presa di responsabilità quanto si potrebbe risparmiare nei comuni italiani se si utilizzasse open office proviamo o libro office che guarda caso è stato fatto in Francia se vogliamo farci questa domanda forse c'è anche una risposta si assolutamente e anche si è proprio la questione del coraggio diciamo voler provare a utilizzare qualcosa di diverso e assumere le responsabilità certo per quanto riguarda la sicurezza invece diciamo che scegliendo in qualche modo un software proprietario spesso non c'è dato a sapere dove i dati vanno a finire mettiamo per esempio che è un LMS americano i nostri dati degli utenti potrebbero finire in server statunitensi o altrove nel mondo ecco quindi diciamo e scegliere un LMS open source ci dà sicurezza nella gestione delle informazioni sicuramente un po' di più mi viene in mente qualcosa di quasi comico perché la Francia che è tipicamente molto attenta ha da più tempo il ministero della sovranità digitale a differenza di noi che abbiamo quello della sovranità alimentare forse quella digitale è un pochino più importante e la Francia ha adottato un software tedesco nel caso dell'LMS è proprio Ilias ci sono degli enti molto importanti per esempio le poste tutto il ministero delle poste e la marina nazionale la marina militare francese ha adottato Ilias come LMS adottandolo poi con una customizzazione per esempio di alcune funzioni molto interessanti per i sommergibili quando i sommergibili chiaramente sono al di fuori del campo internet quando sono in immersione quindi abbiamo degli esempi da parte di enti in cui la sicurezza è fondamentale io possiedo totalmente il codice posso verificare l'installazione fino all'ultimo istante e quindi avere una sicurezza per certi versi anche più alta rispetto a quella di alcuni software non proprietari diciamo a questo chiaramente va dietro anche secondo me la giusta scelta del server quindi significa che Ilias è un software chiaramente che gira lato server come fosse un sito web appunto un portale web e chiaramente la scelta dell'hosting cioè l'affitto del server dove poi gira questo software questo Ilias per esempio è importante che venga scelto per esempio nell'Unione Europea nel caso appunto di utenti europei quindi per una migliore gestione di dati personali noi per esempio in OC offriamo l'hosting della piattaforma Ilias avendo scelto dei server a Milano in Italia quindi assolutamente compliant al GDPR e la protezione a dati personali inoltre ci tenevo a dire che scegliere un software open source è sicuro Ilias lo è e questo lo dimostra il fatto che diverse polizie del mondo da quella tedesca a quella canadese enti governativi militari scelgono Ilias perché è un software open source chiaramente dipende anche dalla sicurezza del server che ospita Ilias in un progetto fatto tempo fa per una nota casa automobilistica alla fine che abbiamo portato avanti noi di OC al termine del progetto è stato fatto fare degli attacchi informatici da Kaspersky che è una nota azienda che fa antivirus il progetto è andato a buon fine perché ha retto il colpo degli attacchi quello dipende sia chiaramente dal software ma appunto anche dalla struttura server che l'ospite volevo parlare con te Roberto della questione invece dei talenti perché in realtà scegliere un software open source si porta dietro una serie di scelte dalla sostenibilità all'etica ma la prima cosa che volevo che volevo porti era invece l'attrazione dei talenti quanto scegliere un progetto open source o magari come Ilias a livello internazionale può attirare dei talenti allora premetto che non c'è una statistica ovviamente parliamo di un numero di persone ridotte magari bisognerebbe provare a farla questa statistica fare una comparazione fra i tecnici che lavorano nell'open source e i tecnici in generale sicuramente c'è un fatto che un'azienda che adotta dei software open source tenderà ad attirare nei ruoli tecnici che hanno a che fare con il software appunto un certo tipo di persone che sono persone che hanno piacere di fare esperienza sull'open source e quindi persone di un certo spessore etico che hanno una mentalità appunto aperta e che sono orientate anche a una collaborazione in comunità un fatto che mi sembra interessante raccontare che e di questo siamo certi non è che è un'ipotesi come quello che dicevamo dell'attrazione di persone nuove verso l'azienda ma sicuramente lavorando nell'open source si viene a contatto con comunità di persone internazionali che sono molto positive di persone etiche che sono pronte alla collaborazione e che quindi spesso mettono i loro plug-in i loro sviluppi a disposizione in modo open source poi magari guadagnano sul servizio sull'assistenza sulle modifiche e così via però sono molto disponibili e quindi faccio una scelta che mi dirige verso un certo tipo di personaggi a questo voglio dire io ho lavorato solo in tre paesi nel settore hardware e software visto che sono a fine carriera e sono stati Stati Uniti Germania e Italia e devo dire che l'Italia si distingue o si è distinta purtroppo non in maniera sempre positiva perché chi lavora nell'informatica tende un po' a cercare di creare un lock-in di legare il cliente di tirargli qualche fregaturina quindi c'è un po' la nostra mentalità che è una mentalità secondo me molto collaborativa che però un po' un po' ego non eco come suol dirsi quindi diciamo è il è un po' una questione una questione un po' un po' diversa nel senso se sono pronto a collaborare a frequentare un ambiente più internazionale sicuramente l'open source è un ottimo un ottimo sistema si potrebbe dire che scegliendo un software proprietario insomma l'azienda cliente che utilizza appunto questo LMS magari chiede una customizzazione una modifica al software e e quindi diciamo è l'azienda occuparsi di questo noi sappiamo bene che poi in realtà non è così più le aziende sono grandi più difficile chiedere di fare modifiche al software per adattarle alle necessità del business però in realtà c'è un aspetto importante della scelta di un open source che è quella appunto della condivisione dei costi per esempio di implementazione e di manutenzione ecco Roberto parlaci un po' di questo allora qui c'è un po' ci sono diversi tipi di open source quello che conosciamo noi come OC meglio è sicuramente Elias al momento e lì c'è una vera condivisione perché c'è una community che quando ci sono progetti particolarmente impegnativi suddivide l'importo che viene raccolto fra più provider e quindi c'è diciamo una condivisione positiva e questo crea anche diciamo un sistema agile di sviluppo che dà buoni risultati vedo meno bene gli open source che hanno una struttura molto frammentata dove esistono tante versioni tutte diverse fatte in paesi diversi mi piace così a pelle di più un open source dove c'è una community abbastanza unita che fa uno sviluppo centralizzato quindi dove c'è un minimo di controllo su quello che succede sicuramente è molto positivo poter frequentare queste community per quello che riguarda Elias abbiamo avuto la fortuna di avere la ultima conferenza internazionale a Bologna proprio a settembre del 2022 devo dire che fare una conferenza sull'e-learning in Italia con quasi 200 partecipanti è una rarità che è andata piuttosto bene però abbiamo potuto veramente percepire il valore delle persone hanno partecipato persone della Nato di moltissime università di start up francesi che si occupano dell'intelligenza artificiale per l'e-learning quindi era un terreno veramente fertile veramente interessante in ultimo diciamo per quanto riguarda la scelta di open source chi ci segue insomma nei vari webinar che abbiamo portato avanti in passato avrà notato anche un cambiamento nel software che abbiamo utilizzato per fare questo tipo di webinar ecco abbiamo fatto una scelta su un software che si chiama BigBlueButton ed è anche su un software open source per fare videoconferenze ecco Roberto come insomma perché abbiamo fatto questo tipo di scelte se vuoi dirci qualcosa riguarda ma è per poter fornire un sistema open source collegato all'LMS che gestisca anche l'aula virtuale quindi questa scelta è stata fatta inizialmente dai nostri partner tedeschi noi la stiamo certificando Agid è già utilizzata dalla pubblica amministrazione in Italia però diciamo c'è un interregno adesso fra diciamo l'obbligatorietà di essere certificati Agid per poter essere utilizzati dalla pubblica amministrazione comunque pensate che un'installazione BigBlueButton anche lì avete solo i costi del server e potete avere tutte le stanze che volete compatibilmente con il numero di persone che solitamente ospitate quindi c'è una spesa nella banda ma non c'è un costo di licenza è vero d'altra parte che molti a me personalmente piace molto Zoom ritengo un'azienda che ha avuto una bravura a gestire la fortuna che ha avuto con la pandemia perché hanno avuto chiaramente un'esplosione ma è un software che funziona bene però come potete penso sperimentare di persona anche BigBlueButton funziona assolutamente bene e potete avere un'aula virtuale totalmente vostra in cui avete la certezza che quello che vi andate a dire non fa visite di alcun tipo quindi Ilias più BigBlueButton una grande combinazione di software open source per la gestione della formazione sincrona e asincrona esatto quindi chiaramente il BigBlueButton è integrabile è integrato con Ilias nel senso di poter costruire della formazione quindi sia asincrona e-learning che anche sincrona utilizzando appunto questo software per la parte di formazione sincrona al momento non sono ancora arrivate domande chiaramente noi resteremo sempre disponibili a chi vorrà scriverci più tardi insomma nei prossimi giorni lascerei Roberto la parola a te se vuoi fare un saluto facciamo una call to action per le aziende che vogliono sperimentare che quindi vogliono fare un passo verso l'open source c'è un'offerta riceverete poi un'email al riguardo che è molto interessante perché avrete per le aziende nuove appunto che sperimentano questa soluzione uno sconto del 20% sull'hosting che noi facciamo a Milano per applicativi open source quindi direi che è un'ottima occasione per salire a bordo e testare una delle piattaforme più sicure e più complete per la formazione online open source per il prossimo e-learning talk rimanete in contatto con noi perché avete poi le comunicazioni sempre anche sui social network in modo da sapere il prossimo appuntamento che sarà sicuramente con un ospite più interessante di me grazie a tutti allora buon pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.